Allora, oggi conosciamo, forse tu sei stato uno dei primissimi acquisti di questo Parma 2019-2020. Castri Odermacu, vuoi presentarti innanzitutto? Ma, sono difensore centrale, ho fatto la scorsa stagione in serie B a Cosenza e vengo con grande entusiasmo per dimostrare comunque di essere arrivato in questa categoria per rimanerci. Senti, quello che colpisce naturalmente è la tua fisicità, ma le tue caratteristiche quali sono? Sicuramente l'aspetto fisico è il mio punto forte, poi lo vedremo in campo se ci sarà l'occasione. Di fianco ai giocatori espertissimi come Bruno Alves, giocatori che l'anno scorso hanno dato una caratteristica alla loro Serie A, come Gagliolo, Jacoponi. Sì, sicuramente io qua ho molto da imparare, sono giocatori tutti più grandi di me e io vengo con grande umiltà a cercare di imparare da tutti i segreti di questa Serie A, diciamo. Da Cosenza dicono che eri molto ambito in Serie A. Sì, ci sono state diverse squadre, ci sono stati diversi contatti, poi appena ho saputo del Parma ho pensato subito fosse la soluzione migliore col procuratore. Ecco, il Parma è ritornato dalla D alla A, questa volata, questa salvezza. È sempre più difficile confermarsi, come tu sai, in questo sport. Nel calcio poi ogni stagione bisogna riazzerare tutto e ripartire. L'importante è avere un gruppo solido e avere una mentalità sempre positiva, lavorare sempre al massimo, poi quando riazzeri, riparti e riparti, devi sempre cercare di dare il massimo, i risultati poi arriveranno. Che differenza ti aspetti tra la B e la A che per adesso hai visto? Ma ancora non lo so, stiamo lavorando bene, sicuramente i ritmi sono più alti, la qualità tecnica è più importante qua, però bisogna vedere poi in campo. A proposito di Cosenza, insomma, ci pensano ancora, loro ci sperano di rivederti, anche se ormai sembra che sarà il tuo anno giusto per debuttare in Serie A questo. Ma io la A mi sono trovato benissimo, lo sanno tutti i cosentini, però la Serie A è sempre stato il mio sogno, come penso per ogni giocatore, l'ambizione di confrontarsi in questa categoria è la cosa più bella, diciamo. Quindi è stata una scelta difficile perché là veramente sono stato bene, però spero di potermi trovare bene anche qui, come sono stato là. Pur essendo nazionale albanese, tu se non sbaglio sei nato in provincia di Reggio Emilia, hai giocato nel Modena, nel Sassuolo e adesso Parma, insomma. Diciamo qualche rivalità l'hai avuta? Sì, il settore giovanile è un'altra cosa, comunque in quegli anni Modena era in Serie B, poi anche il Sassuolo era in Serie B, per me sono stati importanti, a livello di crescita e ora sono felicissimo di essere qua, diciamo, sono un professionista, quindi le scelte che si fanno non si guardano tanto, da dove sei nato o cresciuto. Penso che Parma in questo momento sia la soluzione migliore per me e sono contentissimo. Tu hai fatto tanta Serie C, soprattutto a Melfi, sono stati anni anche molto particolari perché insomma partivate spesso come spacciate e poi riuscivate sempre a salvarvi. Cosa ti porti appunto di tutti questi anni di Serie C, tra l'altro al sud, quindi forse ancora più difficili dal punto di vista ambientale in Serie A? Sono stati sempre anni importanti perché, come dici tu, si partiva con l'obiettivo della salvezza e poi ci salvavamo facilmente, facevamo il play-off, quindi mi sono portato dietro un'etica di lavoro importante dove parti veramente da svantaggiato e poi devi sempre dimostrare il tuo valore, quindi questa è una cosa, penso, importante che mi porterò dietro per tutta la carriera. Ultima domanda, tra i difensori con cui stai interagendo, al quale stai provando a rubare qualche trucco del mestiere più degli altri? Sembra facile dire Bruno Alves? Ma sai, lui è un grandissimo professionista a una certa età e può insegnarmi tanto, ha giocato europei, mondiali, Champions League, quindi lui è un punto di riferimento chiaramente, però sono sicuro che anche gli altri mi daranno una grossa mano ad ambientarmi e a inserirmi il meglio possibile.